Poi viene più con i pelo lungo e più lupo, più proprio cane da greggie. Però secondo me ha destinato bene, e quindi sono tutti come i cani da rinforzare male. Dai che siamo belli, veniamo bene sui filmati. Ma qua è puro farlo di acqua. Dov'è? Alla in fondo. Ah il musso.